Allora Rassi, intanto benvenuto a Pescara, partita contro il Napoli, mi puoi dire le prime indicazioni? Beh, diciamo le prime indicazioni sono state buone, comunque diciamo abbiamo cercato di esprimere quelli che sono i nostri concetti, l'abbiamo fatto in maniera giusta, di certo di fronte avevamo una grande squadra, ma credo che ci siamo fatti valere. Dal periodo di prova a Palena, poi la firma, mi dici come hai convinto il Pescara? Ma diciamo che sono sempre stato me stesso, dal primo giorno mi sono dimostrato una persona, diciamo, e che dal massimo, dal primo all'ultimo minuto, dall'inizio allenamento alla fine, diciamo, magari questo è bastato a convincere la società a puntare su di me. Due caratteristiche, ti senti più uno che spinge o più adatto alla fase difensiva? Diciamo, mi piace molto spingere, il mister vuole un gioco molto offensivo, poi io farò quello che richiede la squadra, se bisognerà difendere farò quello, se bisognerà spingere farò quello. Dove deve arrivare il Pescara quest'anno? Diciamo che non si fanno mai pronostici, però sicuramente non ne nascondiamo di avere obiettivi importanti.